Ogni malattia rara può interessare poche persone, ma nel complesso le quasi 8000 colpiscono nel mondo oltre 300 milioni di individui. Sono difficili da diagnosticare, solo per il 5% di esse vi è una terapia? Nell'ambito di queste poi ci sono le malattie rare respiratorie, che sono circa 200, quindi anche queste sono abbastanza. Tra queste le più conosciute sono la fibrosi polmonare idiopatica, la sarcoidosi, il deficit di alfa 1 antitripsina, l'istiocitosi e poi tante altre. L'Associazione Respirare in un Open Day ha presentato il progetto dedicato ai pazienti affetti da malattie rare polmonarie e i loro familiari presso l'ospedale d'Avanzo di Foggia. Cerchiamo di interporci tra le istituzioni e la parte sanitaria affinché queste persone abbiano un giusto tutor che li possa seguire per il percorso che dovranno affrontare una volta diagnosticato questa malattia. Abbiamo cercato sia con dati di letteratura ma anche con esperienze dirette all'interno del reparto di capire come in qualche maniera potessimo cercare di tener conto non solo degli aspetti biomedici ma con un allargamento anche degli aspetti psicologico-comportamentali e di quelli che sono gli aspetti socioculturali, come il paziente vive la malattia e cosa possiamo fare per il paziente e il caregiver per migliorare la qualità della vita. Il progetto finanziato dal contributo della Fondazione dei Monti Uniti consente di fornire un supporto psicologico individuale di gruppo a tutti i pazienti affetti da malattie rare polmonari. Alcune di queste abbiamo delle terapie, per molte altre non ancora e quindi sono pazienti che comunque necessitano delle nostre attenzioni intanto per la diagnosi perché spesso è difficile proprio perché sono malattie rare e quindi è difficile diagnosticarle e poi per il supporto terapeutico laddove ci sono dei farmaci o comunque di assistenza lungo loro il percorso della malattia quando questi farmaci non ci sono.